Signori bentornati in un nuovo episodio di Ghost Recon Breakpoint Siamo con Molesto e dopo aver trombato una ragazza del luogo ci stiamo dirigendo Ma aspetta nell'ultima missione avevamo preso... che cazzo avevamo fatto? Che è un po' che non lo portiamo Stavamo cercando un tipo Ah che l'abbiamo trovato infatti L'abbiamo portato... è quello che ci aspetta lì fuori bro Anche da anni che è là fuori Povero Sapete che era destino? Che ha piovuto Ha diluviato Quello lì è ancora lì che aspetta noi Che lo dobbiamo scortare fino a te Vedi è davanti a Erwin Parla con Skell Ci siamo modificati un sacco Ci siamo modificati Tra l'altro bro mi è venuta un'idea guardandoti con la maschera Non so se conosci il gioco C'è un gioco che si chiama Army of Two Non so se lo conosci ed è... Minchia però io lo amo quel gioco Quello è da fare Quello è da fare Quello è stupendo Mi ricordo quando ci giocavo Lavoro di squadra estremo Era esclusivo di Xbox Ahah No quello è fantastico Quindi se ero un amico che aveva l'Xbox minchia quanto abbiamo giocato Madonna quella è la mia infanzia bro Calcola che avevo una demo e ci giocavo con mio fratello Comunque qua c'è... Donde ste minchia? Ma... Ma cosa... Appunto Ve lo domando anche... Ah ok la siamo entrati Mi sono rigambiato la faccia Si lo so chi è Si lo so Da quanto siamo vicini? Da quanto? Sei molto amichevole ora che ti serve aiuto Mi sbagliavo pensavo non voleste essere disturbati Sono felice di conoscerti Si 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 Jace Oh Harmony Tutto ok? Sei ferita? Sto bene Ci sei mancato Resterai con noi? Harmony Non credo che sia Mets Può restare? Dai fallo restare Si Ok 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 Certo che può restare Questo personaggio che non riesce a ridere Che non si capiva Farò il possibile per te e per i tuoi amici promesso Ma quanti maledetti computer intendete preparare? A proposito Suo padre vuole mostrarti una cosa Andiamo a parlare col padre di Harmony Negozio di Maria Oh ma io... Ma al bivacco hai visto se quelle macchine erano solo skin che abbiamo riscattato oppure No no No, non ci ho fatto caso Eh ma io pure perché in effetti non è che c'è tipo una skin dei veicoli Questo è il padre di... Parla con Fox Ah lì abbiamo riscattato tutte le cose gratuite dell'Ubisoft Club Infatti ho questa maschera è incredibile Cava barba che ne esce sotto ma... Ci sta Manco mi ha cagato tipo E' davvero bello vederti Credimi Davvero bello Grazie per esserti fidato E' qui Ma non so se posso fidarmi Cosa devi farmi vedere E' importante Qualcuno che è ancora nell'azienda Scusa ma... Stava rendendo il dubbio Ma l'avevamo già vista sta roba Allora io perché c'ho il giocato che mi sembra Ok Guarda come trattano tutti gli operai della Skelta che questi sono Famiglie, bambini E' tutto andato a puttana Oddio non ti avvicinare così se no Guarda i droni Ah guarda chi è questo Un altro per il tuo paese delle meraviglie Apprezzo il manager di medio livello che siamo ancora a sponcarsi le mani Tu no Tutti sul furgone Avanti E' basta piagnocolare Non permetterò ai miei ospiti di piangere come verginelle Forza Cosa è ottobus quello la? Con le impermeabili Ah E vuoi baciare? Ah ah Sono un uomo sempre Hai promesso di collaborare E come vedi Non tolverò chi infrange una promessa E cooperare con le forze di sicurezza Ma questo è proprio un bastardo Greenstone, il CEO della Sentinel, la nostra sicurezza privata E l'hai assunto Ma non per questo Miles Un aggancio governativo Mi ha consigliato lui Stone Peter Miles E' l'uomo dietro all'operazione Greenstone Ci ha mandati lui qui Quello stronzo voleva che fallissimo Che aggiri Non sei mai stato così Quanto ha coinvolto Peter Miles Hanno fatto saltare un laboratorio a Maunganui Quello è bastato per convincermi a costruire i droni letali Miles è arrivato con i fondi Così abbiamo creato il programma Omega E poi è arrivato Walker come consulente militare E quando hai provato a fermarli Hanno preso il potere Dobbiamo portare via i civili dall'isola E io devo trovare dei rinforzi C'è molesto non ti preoccupare E' lui il rinforzo C'è un difetto Nel programma di controllo Dei droni Sto lavorando a un virus Che può controllare un singolo settore di droni Così una nave potrebbe lasciare l'isola Esatto Ma mi serve aiuto Se basterà a far sbarcare le truppe Ti aiuterò Grazie Sto allestendo un'area di lavoro Passa da lì e ti dirò che mi serve Dobbiamo parlare con lui Eh comunque è chiaro Lui era un semplice Lavorava lì E poi l'hanno incolato malissimo Insomma loro si sono presi il potere gli altri Precisamente Ma guarda che non te è simpatico questo Quindi in teoria dobbiamo parlare per ora di nuovo con cosa Dobbiamo andare a parlare con il buon uomo Che ha che poi non Con tutti i capelli freschi Mi ricorda non so perché pagano il mini di Far Cry 4 Però lo pagano il mini era molto meglio Poi ci assomigli un po' dai un mini D'accordo genio Parlami del piano che hai ideato Posso sfruttare un difetto nel programma di controllo Per dare istruzioni a un settore dei droni che controlla il perimetro dell'isola Ma mi serve aiuto Dobbiamo trovare il mio ingegnere capo Assicurarci che la backdoor nella programmazione dei droni resti aperta E serve un'IA avanzata che stiamo sviluppando Sì ho capito tutto Lo faremo senz'altro Ok ce ne possiamo andare Quindi abbiamo degli ostaggi da liberare Un ingegnere da trovare E un'altra sempre da rintracciare Per la Cromwell Come cazzo si chiama Comunque è incredibile come cambia proprio il movimento del personaggio Quando sei qua dentro sei un cazzo di turista Sì Poi esci fuori Che esci fuori Arma Hai visto come corre? Fiero Comunque la legge di Blake Qua dobbiamo trovare il campo ed è il primo Qua cerca Walker nell'aerodromo Ma questa era dura C'abbiamo tante missioni volendo La residenza Ecco la casa di Madera Io andrei a cercare questo ingegnere capo qua Quindi la casa di Madera che è A 12 km Quanto? Ma andiamo invece a piedi Ah era davanti a noi Ci aspetta un lungo viaggio VRO Eh sì Vediamo quanta mappa abbiamo esplorata mentre tu vai Minchia però Sembra che abbiamo giocato tipo tanto Ma ci sono un mare di zone bro Praticamente inesplorate Sì è immensa la mappa È proprio grande Mamma mia E sparte non è che dice Sembra immensa perché te la giri a piedi Ma bro in che hai l'elicotteri e cose Cioè se li hai i veicoli per spostarti Semplicemente è gigante Forse anche troppo E l'avrei fatta più piccola Minchia tanto non so se ci hai fatto più piccolo In fatto caso io lo sto vedendo adesso Se vai in alto a destra sulla mappa C'è un'altra isola separatissima dalla mappa di gioco E che aspetta? Golem Island Sì Con un vulcano Ma do Ma tu guarda Manco si vede da questa Golem È proprio lontanissima Forse lì Ti vedo in lontananza E comunque secondo me Articolo scientifico Articolo scientifico incorniciato Guarda che io mi sto fottendo qua il mondo Melograno Cazzo di collezionabile Ah no questo è il collezionabile Foto di David in sedia a Rotel Che cazzo ne so Eh ti stanno Eh ti stanno Lo vedo vediamo se riesco a darti una mano Qualcuno si è allarmato Eh lo so Merda non riesco a farlo Tu e qua te li ho fatti Provi in caso a scappare Roba così Perché io qua sto trovando tutte le info che ci servono Cazzo è Ancora qua c'è un'informazione Oh lo scienziato è lui il vicino Ehi scusa Sto cercando la tua vicina Paola Madera Marta ha chiamato ieri a Frauzio Se ne è andata all'improvviso Se ne aspetta il tempo che parlo con lui Un ingegnere che prosegue il suo lavoro Chi può sapere dove è Paola? Ehm Forse Daigoro lo sa Un tizio con cui si vedeva al Parlamento di Auroa Sembrava uno di quei ragazzini delle proteste Grazie Vabbè Altri segnali Minchia Foto del Parlamento di Auroa bro Dobbiamo raggiungere il Parlamento per trovare Eh io qua sto facendo una strage da solo eh Io sto arrivando Vabbè in queste case qualcuno c'era Forse non quanto i tuoi Aspetta Li sto sparando da qui Ah è rimasto un No Due a uno fatto Ce n'è l'ultimo Ok Porca puttana Abbiamo aggiornato le nostre I Guarda che qua c'è qualcosa di blu Che io me l'ho fatto subito Dei pantaloni Eh lo sta chiamando Chiama un cazzo il tiro Eh mi sa che forse li ha già chiamati Oh ho trovato però i pantaloni quelli mimetici Guarda qua Ripetere la richiesta Ripetere la richiesta Ripetere la richiesta Non ho capito Non ho capito Non ho capito Oh qua sopra Non ho capito Oh dimmi che un cecchino Ehm Dmr Perfetto quindi noi ci possiamo dirigere O lì Sì questo è un genio Sì sì per forza Signore Lei sa dirmi qualcosa Oh ma tutti pelati È impossibile Che in questo gioco siano tutti pelati Voglio fidarmi Anzi qua è abbastanza semplice Dmk E in mezzo a una grande città E al centro della provincia di Liberty Ed è scomp... Ehm Stamadere è scomparsa Dopo aver incontrato Deigor Al parlamento di Auroa Ecco quello è l'edificio della foto Che mi hanno mandato Quello è il parlamento di Auroa Non so quanta gente ci potrà essere Una marea sicuro Ehm Andiamo dove posso atterrare un pochino Mamma mia Però è pieno di gente Meglio che atterro tipo qua E' pieno sul tempo C'è uno Porca puttana Guarda quel bastardo lì che non lo vedo Puttati come cazzo Scendo da qua E' tutto bloccato Ok Apri la cassa Tu dove sei? Ah già ero andato Ho buttato su dal palazzo Ah ok Che mi faccio strada Qua c'è una cassa con i soldi Dai che ci prendiamo il carro armato Prossima volta Altro che furtivo Andiamo con il carro armato Allora Noi dobbiamo andare in quell'edificio Lì c'è un drone Mica però c'è un cecchino eh Porco Mi hanno cecchilato ma non riesco a capirlo Mica Bisognerebbe vedere se ci sono i fumogeni In chiaro ti giuro che non so che cazzo mi ha preso Meno male che è una ferita lieve Ok avanzo Ma come cazzo si entra? Siamo davanti al municipio E poi tra l'altro qua ci indica delle cose sottoterra Quindi è chiaro che Questa struttura va anche sottoterra Penso di averla trovata Oddio Buongiorgio Buongiorgio Parlo con tutti? Ciao Sono in mezzo a 5.000 scienziati A cui posso prendere delle informazioni Ok Indaga nel parlamento Una persona Si chiama Daigoro Questa è una missione secondaria L'accetto pure Grazie Cassettina Cassettella E ho trovato dei pantaloni Cos'hai trovato sulla cassa dell'arma? Tipo una specie di M60 Un obiettivo A Un compensatore di MR Grazie mille Buon uomo Salgo da qui In teoria abbiamo finito Tra niente sto Daigoro Con quello con cui dobbiamo parlare È stato catturato dalla Sentinel E quindi Noi penso che Uccidendo la Sentinel Trovando info così Possiamo avere Informazione Oddio grazie Non l'avevi visto No E ne ho un altro davanti Che non vedo E affacciati Che non vedo un cazzo Ah Wallbang Qua cosa abbiamo? C'è qualcosa di blu Oh Un corpetto Oddio Ma ce l'hai fatta però Sì Tanto qui possiamo parlare con uno Per la missione secondaria Dove cazzo eh? Ah erano nemici Inca io ho sparato a caso Non c'è niente Ma cosa? Hai preso? Sì Sì Allora figlio di puttana Ora voglio altre informazioni Dammi pure questo Sono tutte le informazioni che ho Ti prego non ucciderli Perfetto Perdonate ma mi serve la macchina Tornate indietro Figli di puttana Ci sono il copilota Minchia sta diventando notte Porca puttana Il problema è che nonostante abbiamo trovato queste Ah è lì 600 metri Lì lo tengono rinchiuso al Daigaro come cazzo si chiama Ah aspetta A me posso consultare le prove Bro copri un attimo Ah foto del centro di detenzione Ok Un'altra foto che ci ha indicato Dove lo tengono Però abbiamo le indicazioni Di dove può essere questo grandissimo stronzo BRO Non abbiamo scampo per le persone come lui Mamma questi sono i miei fari Non vedo un cazzo Però la notte è fatta proprio buia Cioè manco i fari Manco la luce illumina Incredibile Quanti cazzo di pinghe ci sono Io come ci vado qui C'è una stradina Vabbè Il sole notturno E si va di prepotenza Noi stiamo andando in teoria Perché Per trovare quella persona lì Stiamo facendo A scala Indizio su indizio Però mentre siamo qua Certo che è una storia molto slegata E proprio Un po' lo vedo come un difetto Sta roba qua Perché tu fai una missione principale Ma essendo troppo open board Ti lasciano comunque libero Mentre la fai Con missioni mescolate fra di loro E tu per stende parti per fare una missione Te ne fatte 50 Tipo Insieme E poi è tutto Diciamo molto Trova un indizio E vai la Trova un indizio E vai la E poi incontrerai un coglione Che ti dice due parole E hai completato la missione C'è qualcuno che mi guarda Sali, sali bro che ce ne andiamo Oh mi stanno cerchionando bro Ti prego Valo per la mia vita Hai salito? Vai sali Giorno di merda Vai 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 Avanziamo così Graduale Aspetta Non sparare gente troppo in fondo Perché magari da lì Non riesci A vedere che li vedi Dai fai questo Scennati qua dove sono io Che possiamo avanzare Il drone lo puoi fare in teoria Fatto Però non hanno sentito un cazzo Sì ti assicuro che ho sentito tutto E' un Jagger Non si è allarmato? E' il Jagger? Porca puttana Ho dentro un cespuglio Minca io ero nel cespuglio C'è davanti qualcuno che mi viene Non riesco a capire dove? Ah si l'ho visto Finchè non lo vedo C'è pure il drone Bombardano Eh vabbè Siamo in pieno fight BRO Non mi fa Non mi fa Porco dio Ma cosa mi ha fatto? Ah avevo un drone dietro Ma cazzo sei bro? E' dentro l'acqua Porca puttana Vedi mi hanno ucciso e mi sono nascosto Aspetta che ho un infortuno Faccio pure io di insulina Oh ma ce l'ho dietro di me il drone porco di quel cane Ma questo mi sa che è un drone solo all'arma E' fatta Sì Cos'è sta luce? Cos'è che li sta puntando? Guardalo lì il riflettore di merda Allora io vorrei provare a farmi intanto queste qui sotto che hanno proprio leggermente rotto i coglioni Guardalo Eh vabbè immortale No da di Da dai che mi hanno sciolto Non so se l'hai fatto No comunque devo migliorarmi l'equipaggiamento C'ho un'arma di merda Ok è una volta entrati Intanto qua c'è un collezionabile che lo prendo Qua penso abbiamo delle info Forse possiamo hackerare per farlo uscire dalla cella Sì Ah è stato trasferita Qualche informazione su dove si trova Porco dio Dov'è ragazzo? C'è sto Daigaro che lo troviamo così vediamo se ci dice dove minchia è Basta Smettiamo di cercare a destra e a sinistra Forse questa è la cella di Daigaro Vediamo apro Daigaro Eccolo qua figlio di puttana Eh però che cella Letto bello Il computer Sta minchia Eh ma manco io Un luogo L'ingegnere dei droni Come hai detto? Costruisce droni Come quelli che volano sull'isola e uccidono la gente Ehi Non mi importa cosa hai sentito E' impossibile che lavori per la sentinel E' una di noi E' coraggiosissima ed è un'esclusa E allora perché avrebbe costruito i droni? Ma tu che cazzo sei? No vabbè Già don'hai uncata per andare Degli elicotteri che si sono schiantati Andiamo in un rifugio Possiamo parlare lì Come ti tieni? Ok Topa è nomad Allora Ogni cazzo Vediamo il cesso che non lo è Tecnologicamente avanzato del mondo se non ti piace la tecnologia Eh non è una cella Dobbiamo scortarlo ora questo qui fino al punto di estrazione Beh con tutti i detenuti che abbiamo liberato Perciò che io sono senza munizio niente Eh io Forse quale può Ah no ma le sono appena portate Peccato che non ho sola Beh una cosa è sicura Abbiamo fatto il primo passo di questa missione intanto Trovare questo bastardo qua Che poi ci parla su L'esatta posizione di sta madera Ah ma puoi sparare? Con questo Ah questo penso che è uguale al tuo Cambia la skin Ah questo è della sentinel C'è pure scritto sul fianco No qua non c'è nessuno al punto di Per la prima volta hai sbagliato PRO Ho rotto l'erica guarda una P90 blu E io lo cambierei a sto punto al posto di questo E avevo equipaggiamento troppo malandato Allora dov'è il buon uomo? Possiamo parlarci? Sai dirmi dove trovare Paola Madera? È una brava persona Per che cosa ti serve? Potrò un bar Dobbiamo eliminare un settore dei droni Ci serve il suo aiuto Ho sentito il suo nome durante una conversazione sull'area riservata 01 Potrebbe essere là Oh risolvi il caso Quindi abbiamo trovato tutti questi bordelli qua Abbiamo risolto il caso Per me è l'asso nella manica della sentinel per il programma dei droni killer Bastardi La troverai vero? Non mi frega un cazzo a quale costo Ti ma calmati Non agitarti Non lascia fare a me Missione completata E io direi che per questo episodio Ci salutiamo qui Con la fascia di molesto così come sfondo Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima